Amici Bellini, essendo passato martedì, buon martedì, e con questa ufficialità io mi sento di dover dire la mia, lo so, arrivo in ritardo, ma lo sapete che io sto qua con i fusi orari il giorno, è martedì, quindi ufficiale, parliamone E' un martedì pazzesco Rumori incredibili Allora, amici Bellini, io vi ringrazio, insomma, di esserci, prima di tutto, benvenuto SunSmile90, assolutamente, per tutti i nuovi iscritti, quelli che capiteranno per caso, probabilmente, su questo video Io sono Valerio Fluido, abito a New York, e se vi va, questo è il mio store Eh, non lo dico mai, l'amico Frank Parziale mi ha onorato di un acquisto, volevo ringraziare Frank Parziale, che tra un po' ci farà vedere un selfie con la nuova maglietta Un bacio a te, tanti like a Scroscio E ci ho pensato parecchio prima di fare questo video, perché ieri, ehi, che cosa, abbiamo visto una nuova puntata delle Iene E Putin mai parlasse in Baykist, fondamentalmente Lo so, è uno schifo, lo so, siamo delusi, lo so, siamo disamorati Non ci crediamo più al calcio, siamo tutti distrutti, delusi, delusissimi, vabbè Però voglio parlare di Sarri, Sarri che era poi lo stesso allenatore di quando in Fiorentina Hai perso, hai perso, hai perso, hai perso, hai perso, hai perso Però io voglio parlare di Sarri alla Lazio, non è che non mi interessa Eh, vabbè Sarri alla Lazio completa il quadro degli allenatori in Serie A E quindi noi dobbiamo fare un pochino di ipotesi Sempre che il calcio è quello che, insomma, sempre che non è tutto già scritto Io potrei fare anche i video così, eh, ogni cosa che dico Sempre che lo abbiano deciso, sempre che ce lo facciano fa Sempre che qualcuno è d'accordo Cioè, perché è questa la cosa che dobbiamo dire Chi è che non cambia? A me interessa prima vedere quelli che non cambiano Perché chi non cambia allenatore è avvantaggiato sotto un certo punto di vista Perché non deve entrare in un nuovo ambiente Non deve conoscere i giocatori che ci sono già E quindi chiederne dei nuovi Possono in teoria programmare già meglio l'estate Sanno quali sono le falle, i difetti da limare E possono programmare meglio E dobbiamo quindi citare Pioli con il Milan confermato E l'Atalanta, ovviamente, di Gasperini Che pare adesso si stanno muovendo su Cup Miners Se l'Atalanta prende Cup Miners Io vado veramente in freva Perché una cosa è che vai in una squadra grossa Insomma, di top level, di prima fascia Allora tu dici, non ci poteva arrivare il Napoli Ma se va all'Atalanta è una questione di crederci sul serio O arrivarci prima degli altri Sotto questo punto di vista, male, malissimo Se l'Atalanta si prende Cup Miners Quindi queste due squadre Il Milan, ricordiamo, arriva secondo L'Atalanta un punto dietro Stiamo là Avevano lo scontro diretto finale Va benissimo E quindi hanno questo vantaggino Dopodiché dobbiamo considerare L'arrivo di Inzaghi all'Inter Inter che però ha stravinto il campionato Lo so, e devo parlare di Sarri Ma ci arrivo Ma ci arrivo Perché il quadro deve essere complessivo Ah, Sarri alla Lazio Uffa Facciamo il video Sfogo assoluto Ah, Sarri alla Lazio Mi fa male Ah, come sto male Non è così che si fa Che si parla del calcio Qua Che è chiaro Uffa, Sarri Non è così Inzaghi all'Inter Può significare Un abbassamento di quella tensione tremenda Che avevano Perché Conte ti fa overperformare Però magari un gioco un pochino più arioso Un pochino più Inzaghi punta sul gioco Nonostante potrebbe confermare il 3-5-2 Hanno un gioco più gradevole rispetto a quello dell'Inter Che però nel finale del campionato ci ha fatto vedere Anche un po' di partenza dal basso Non demonizziamo Conte completamente Però Inzaghi potrebbe portare questo Ma deve fare i conti con una società Che anche lei A quanto pare deve ridurre il monte in gaggi Probabilmente non riusciranno a trattenere Akimi Devono capire che cosa fare anche loro col mercato Però A bocce ferme l'Inter Avendo stracciato il campionato l'anno scorso Deve partire tra le favorite Ovviamente ci dobbiamo inserire la Juventus Che Allegri è un ritorno Quindi non è un allenatore nuovo Che deve conoscere l'ambiente Allegri già sa tutto Allegri già sa tutto Sa tutto quello che deve sapere Ha seguito la Juventus Sa già quelli che non vanno bene E quelli che non vanno Quelli che vanno bene Insomma c'ha già le idee Ben chiare Quindi rientrano in pompa magna A galoppo Quindi queste tre Più l'Atalanta Che chissà Si confermerà ad alti livelli Ma perché non dovrebbero Ciao Salutiamo eccetera eccetera Poi ci sono queste tre squadre strane Squadre con la K Che sono il Napoli La Lazio E la Roma Il Napoli prende Spalletti Un uomo che la Champions L'ha quasi sempre presa Anche con una squadra piccola Che era l'Udinese All'epoca E che manca Da un paio d'anni Dal campionato Deve semplicemente studiarsi Qualche soluzione Quando vuoi ripartire Dal basso Dal fondo Perché non c'era La regola Che i difensori Potevano prendere La palla in aria Quando allenava Spalletti E l'unica cosa nuova Che deve studiare Dopodiché Penso che abbia seguito Il campionato Sa di cosa si tratta Il calcio Sotto questo punto di vista Non possiamo dirgli Eh ma non ha esperienza Non sa gestire i momenti Di crisi Questo non si potrà dire Così Però dobbiamo capire Che tipo di mercato Il Napoli può fare E non dipende Assolutamente Dal Napoli Ragazzi Tutti i nomi Che state sentendo Benissimo Li facciamo Li leggiamo Li commentiamo Sul gruppo Telegram Tutti gli amici abbonati A proposito Vi siete abbonati Avete fatto il passaggio Dell'abbonamento Sino Come vi invito Grazie a tutti quelli Che lo stanno facendo Di conseguenza Dipenderà tutto Da Il Napoli Deve A prescindere Da quelli che Usciranno No Delle offerte Magari un pezzo pregiato Per fare un po' di cassi Il Napoli Comunque Un centrocampista Lo deve prendere Perché esce Bacaiocone Deve entrare un altro Volendo mantenere La struttura Ma io devo parlare Di Sarri No ma è vero Perché il titolo È Sarri Stai facendo Tutto cosa tu Uffa Sarri Allora Sarri alla Lazio Mi fa veramente paura Ragazzi Devo dirvi la verità Come mi avrebbe fatto Paura Sarri alla Roma Perché Sarri Nella Juve Va bene Vince Chissà se avrebbe vinto Chiunque Non lo sappiamo Non lo possiamo essere Tutto il retro Il retroattivo Il pensiero retroattivo Col seno di poi Non serve a niente Ma Sarri Alla Juve Non fa Sarri Perché ci sono Dei giocatori Specifici Perché c'è un C'è un discorso Anche di spogliatoio Particolare Ci sono delle regole Diverse Lo fanno fuori subito Quindi vuol dire Che non ha attecchito Nella sua idea Di calcio Nel personaggio Poi lui è un personaggio Poi lui è un personaggio Che vive di contraddizioni Perché quello che ha detto A Napoli Poi se l'è rimangiato Quando è andato là Poi adesso vediamo Se Se ritornerà a parlare Di maglie strisciate A me questo Mi fa Mi fa ridere Mi fa Mi fa I'm looking forward Oggi mi viene solo inglese Non riesco a parlare italiano Non vedo l'ora Ecco Di sentire nuove conferenze Di sentire Sarri che si lamenta Degli arbitri Perché Ci sarà Magari tirerà fuori Anche le questioni Delle iene Ah Le iene Mancava Manca un altro file Manca proprio il file Di vecino Che è stato E come mai E come mai Sul file Su uno di questi file Proprio quella cosa Di vecino Il file è più corto E come mai Manca la voce di orsato Come mai Cioè Come mai Ma siete andati Proprio a scavare All'interno dei file E le avete editati Apposta Dopo tutto questo tempo Perché Ma come mai A me dell'episodio Non mi interessa A me dell'episodio Non mi interessa Perché Iguain Non mi interessa Come mai Vi chiedo come mai E se vi chiedo Come mai Valeri Non fare il tipo stizzito Che dice Dottor Filippo Roma Non ti rispondo Hai capito Che non ti rispondo Non ti risponderò Ma come mai Non rispondi Ma qual è il problema Mi fate capire Qual è il problema Fatemi capire Qual è il problema Parlate con gli avvocati Non vi conviene Signori Non vi conviene Perché parlate Con gli avvocati Le querelle Eccetera eccetera Fa uscire più merda Dal Cesso Non vi conviene Ma come mai Mancano i file E Aggiungo Voglio i file Di tutte le partite Di tutto il campionato Deve esserci Un sistema Di trasparenza Perché non ci credo più Visto che il calcio Ci dimostra questo No Report Eccetera eccetera E' tutto E' tutta una schifezza E' tutta una roba Che ha interessi Di sport Non se ne parla proprio più Voglio chiarezza E limpidezza E voglio Trasparenza Voglio vedere Che siano a disposizione Di tutti Le immagini del VAR Li voglio sentire E li voglio vedere Tutte quante Tutte Non può intervenire Il VAR Perché è intervenuto Non potevi parlare Con quello Mi devi spiegare Basta Basta Altrimenti non ci crediamo più Altrimenti lo spezzatino Ve lo vedete solo voi E non si abbonerà nessuno Poi vediamo Poi vediamo Se saremo Abbastanza forti Da non farlo A di là di questo Sarri alla Lazio E' un pericolo E' un pericolo vero e proprio Perché la Lazio Comunque è abituata A giocare a pallone Ora si dovrà capire Se riuscirà a trovare I giocatori adatti Per fare il suo 4-3-3 Non aspettiamoci mai Come non l'ha fatto al Chelsea Come non è riuscito A farlo alla Juve Io non mi aspetto Di rivedere il sarrismo Del Napoli Quel sarrismo là Lui poi L'ha detto No il sarrismo non esiste Non so di cosa parlate Mamma mia ipocrita Il sarrismo è difficile Perché il sarrismo arriva Dopo un'idea sbagliata Poi aggiustata In fase di spogliatoio Con un accordo generale Tra tutti i giocatori Con delle pedine fondamentali Giorginio Poi Allan Poi Amsic Poi che fa la spola Con Insigne E poi Guayin E Cagliecon E poi invece di Guayin Ci puoi mettere anche Milik Ma anche Mertens E poi c'hai Albiol E c'hai Kulipali E c'hai Ma bene anche Usai E c'hai Kulam E poi ci puoi mettere Anche Mario Rui E poi da un altro Insomma Sono dei giocatori Che abbiamo imparato a memoria E loro hanno imparato a memoria Una serie di meccanismi Se a Sarri gli dai un po' di tempo Lui lo può far fare a Lazzari Ad Acerbi A Felipe A Radu A chiunque Li può far fare queste cose qua Allo stesso Maksimovic A proposito Ma Maksimovic Tu non l'avevi cacciato E mandato in Siberia Perché non ti seguiva E non riusciva a farlo Alla linea Moti va bene Perché non ci stanno sordo Giocatore a parametro zero Che lui già lo conosce Piglia lo piglia Meglio di qualcun'altro Sicuramente Però Acerbi Maksimovic Non lo so Dipende da te Volete Insigne? Costa assai Insigne non lascia 4 e mezzo Per venirne a prendere 3 e mezzo Alla Lazio Insigne resta qua Insigne costa assai Anche se è in scadenza Quindi Non Non lo so Veramente Ma si parla di Politano Perché lui apprezzava anche Politano Ma perché venite tutti a pescare Nel Napoli Ma non eravamo Scarsi Vabbè Insomma ragazzi In tutto questo Non ho citato la Roma Che comunque È una squadra interessante Che poi si è sciolta In campionato Perché sono andati comunque avanti In Europa League Poi c'era Anche lì una questione ambientale Dove Fonseca Era un po' più fuori che dentro Problemi In secoli Non è facile Prendono proprio l'uomo adatto Per sistemare tutte queste cose qua Un uomo che Fa ombra No Si mette lì Tutti i giocatori Vengono protetti Dalla sua figura E se Mourinho riesce A far dare di più Anche alla Roma Ecco che ragazzi Sarà una lotta Sfrenata Sempre che Voi Dei vertici Decidete di farci giocare A pallone Questo spezzatino Oltretutto Chi gioca prima Di mattina Con cover Capi oggi Come lo decidete Queste saranno altre Polemiche assolute Ma volete Far ritornare il calcio Come è Tutti insieme No Non si può fare I soldi I soldi Il violino più piccolo Del mondo E vabbè Insomma ragazzi Sarri alla Lazio Mi spaventa Perché comunque Non è una squadra Enorme E esagerata Quindi Sarri può Se gli danno il tempo Impostare un discorso Progettuale Dove se i giocatori Lo seguono Sarri è un maestro Di calcio Non lo possiamo Non possiamo Far finta di niente Può insegnare Può far performare Giocatori anche Non eccezionali Meglio Alla Lazio E quindi Ciamma sta seriamente Accorti Perché noi non sappiamo L'impatto che avrà Spalletti Non sappiamo Quello che lo avrà Murigno Non sappiamo Quello che lo avrà Sarri Però si è delineata La situazione Vediamo se Il sassuolo Prende il maestro Giampaolo Che avrebbe senso Comunque come Continuità di lavoro Di gente che insegna Calcio Al di là dei meme Su Giampaolo Ha meno senso Di Francesco Alverona Che pare voglia fare Uno scatto In avanti A livello di gioco Perché di Francesco Comunque viene da Quella scuola là E Iurici Invece va al Torino E' perfetto Secondo me Come idea E come mentalità Come cuore toro Da New York Valeroflui è tutto Abbiamo fatto Un mix match Match Un mismatch Ma Ma perché Non ci sta Non ci sta Il filmato Ma perché Manca solamente La voce di Orsato Non ho capito Cioè Non mi spiego Certe cose Quindi dobbiamo Arrivare A 10.000 E arriviamoci Si deve cliccare Sopra La cosa così Poi cliccate Sulla campanetta Poi mi iscrivete Al canale Telegram E di più Dai Basta Sei cringe Quante cose Tutte le cose Belline Mi fai il caffè Mi ricordo Mi chiamo Hezz